A Nani di Bellaria si affrontano due piacevoli realtà del torneo di promozione, due squadre che puntano sui giovani per confermare la categoria. Da una parte Bellari già marina di Mister Fusi e dall'altra nuova fetta del leone natore Mirko Giorgi. Si gioca nel posticipo serale indotto dalla Lega da qualche settimana a causa mancanza di direttori di gara. Per questa sfida la disegnazione è stata affidata a Lorenzo Rossi di Cesena, coadovato da Matteo Giacomini della stessa sezione e Norma Cibarsi della sezione di Forlì. Squadre che indossano i completi tradizionali con la nuova fetta che apre le danze con questo tentativo di Tor Romani bloccato dall'ex Rimini Mignani. Ancora la nuova fetta sugli scudi, la corsia di sinistra è quella preferenziale per gli attacchi, questa volta il traversone giunge sui piedi Niang che in corsa non c'entra in Mirino. Buono però il senso della posizione dell'ex Verticara. Dalla sinistra spinge anche Bellari già marina e il folletto Bellavisti incante e delizia la platea e il suo traversone viene allontanato dall'ex di turno Foschi. Domini figlio d'arte rispolvera dal cilindro magico il suo piede fatato da calcio piazzato viene fuori una comoda presa in questo caso per Mignani ma è lo stesso centrocampista due giri di lancette dopo a chiamare al tuffo con relativa deviazione in corner l'attento portiere di casa. Dall'angolo sempre Domini scodella questo pallone allontanato parzialmente dalla retroguaglia di casa sul piede di Tor Romani la cui volé si perde alta. Alla mezz'ora i Bellari già marina passa col suo uomo più pericoloso Bellavisti incante e inizia né bene né male con una parabola velenosa che inganna Cappella oggi titolare per l'assenza di Andreani squalificato. Sarà questo il gol partita che puntualmente rivediamo con la regia di Giacomo Alpini. Dalla distanza i Bellari già marina prova a rendersi pericoloso come Luzzi ma Cappella blocca senza affanni. Dalla bandirina Domini mira il piede di Nianchi che sottomisura calcia di poco a lato. In chiusura di tempo Nianchi viene murato al momento della conclusione. Il pallone si alza per la battuta finale di Tor Romani che si spegne sul fondo. Nella ripresa i Bellari già marina si rende maggiormente pericoloso dalle parti di Cappella che qui è molto bravo nella respinta di piede sul tentativo ravvicinato di Cocco. Facundini da calcio piazzato vede il suo tentativo deviato in corner. Da calcio piazzato è Zanotti questa volta sottomisura a mettere alto. In contropiede gli adriatici cercano i gol sicurezza. Qui in uscita Cappella chiude ottimamente lo specchio della porta costringendo l'attaccante a defilarsi e a mettere la sfera sul fondo. Tutto per una foto poco dopo quando il portiere di Nuova Feta su questo debole tentativo di Facundini è costretto a distendersi in tuffo. Dall'altra parte stessa cosa di Cassidi Mignani che blocca senza problemi un tiro dalla distanza dell'altro ex di turno vivo. Nel finale altri due sterili tentativi per i padroni di cassa. Il primo con questo colpo di testa di Bottini. Il secondo con Facundini che non inquadra lo specchio della porta. Bellari già marina e Nuova Feta si dividono un tempo per parte. Forse il risultato più giusto sarebbe stato quello di un pari ma nel calcio vince chi getta i palloni in fondo alla rete premiati in questo caso alla squadra più cinica.